sei regista di un film western che verrà girato la settimana prossima improvvisamente al provino si presenta un ragazzo che si chiama luciano spalletti ok ci tiene a partecipare come attore in che ruolo lo impieghi un western e il cowboy subito no cowboy perché lui può avere questo diciamo questo atteggiamento di un po misterioso che non vuole fare per la giustizia e che anche vuole contro diciamo le regole quindi secondo me il cowboy sarà bene per l'estate prossima uscirà un film che racconta questa stagione 2021-2022 il produttore tale aurelio pretende che tu scelga il titolo già oggi anzi adesso che titolo gli dai questo è difficile in memoria Maradona direi che bello questo è un titolo bellissimo penso che sarebbe bene pure con un scudetto sarebbe ancora più bello sarebbe ancora più bello è vero anche perché Maradona ha parlato benissimo di te che effetto ti ha fatto quando ha detto che eri un grande giocatore che ti avrebbe visto bene a real madrid del barcellona pensare che una leggenda come Maradona che parla di te che dice queste parole penso che non sono tutti i giocatori che possono vedere di questo quindi ho avuto la fortuna di avere queste parole da lui poi gli ho mandato una maglietta e l'ho detto che lo aspettavo a napoli ho avuto la fortuna di vederlo contro il real madrid e sono stato molto felice hai scelto un titolo bellissimo secondo me per il film di questa stagione sempre questo stesso potentissimo produttore di nome aurelio ti commissiona un film biografico sul tuo compagno osy man che storia racconti su victor victor la storia che potrei raccontare direi il primo anno suo che è stato molto difficile perché però nessuno l'aspettava quel livello che oggi e che non ha finito di dimostrare penso che ancora tante cose dietro che che la gente vedrà in questa stagione e le stagioni a venire che sia un giocatore fortissimo lo sta dimostrando che ragazzo è invece un ragazzo veramente tranquillissimo umile che che fa pure fa pure ridere scherzi ai i suoi compagni soprattutto con manolà se lo vedete a volte fa gol e balla con i signi e quindi veramente una persona straordinaria e io lo voglio aiutare in quello che vuole diventare perché se lo merita sempre a disposizione di tutti quella la bellezza che che lui fa vedere da fuori io gli dico chapeau credo che spalletti abbia troccato proprio il click il pulsante giusto no per fargli fare quel salto di qualità di cui aveva bisogno sì penso che che l'ha un po caricato perché quando arrivato si è messo subito dietro di lui a spingerlo a dirlo quello che non faceva bene e quello che faceva bene io posso dire che quello che l'ha aiutato anche tanto è stato Gattuso l'anno scorso perché l'ha dato tanta forza tanta fiducia e poi il mister spalletti quando arrivato è andato veramente dove dove Gattuso era quindi ha aiutato tantissimo e vediamo che questa combinazione gli da da frutta oggi